Libro di Marco, capitolo 13 Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse Maestro, guarda che pietre e che costruzioni! Gesù gli rispose Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta. Mentre era seduto sul monte degli Olivi di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte Dici quando accadrà questo e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi? Gesù si mise a dire loro Guardate che nessuno vi inganni Molti verranno in mio nome dicendo sono io e inganneranno molti E quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi Bisogna infatti che ciò avvenga ma non sarà ancora la fine Si leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno Vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie Questo sarà il principio dei dolori Ma voi badate a voi stessi Vi consegneranno ai sinedri Sarete percossi nelle sinagoghe Comparirete davanti ai governatori E il re a causa mia Per rendere testimonianza davanti a loro Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le genti E quando vi conturranno via per consegnarvi Non preoccupatevi di ciò che dovrete dire Ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato Poiché non siete voi a parlare ma lo Spirito Santo Il fratello consegnerà a morte il fratello Il padre, il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori E li metteranno a morte Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato Quando vedrete l'abominio della desolazione Stare là dove non conviene Chi legge capisca Allora quelli che si trovano nella Giudea Fuggano ai monti Chi si trova sulla terrazza Non scenda per entrare a prendere qualcosa nella sua casa Chi è nel campo Non torna indietro a prendersi il mantello Guai alle donne incinte E a quelle che allatteranno in quei giorni Pregate che ciò non accada d'inverno Perché quei giorni saranno una tribolazione Quale non è mai stata dall'inizio della creazione Fatta da Dio fino al presente Né mai vi sarà Se il Signore non abbreviasse quei giorni Nessun uomo si salverebbe Ma a motivo degli eletti Che si è scelto Ha abbreviato quei giorni Allora dunque Se qualcuno vi dirà Ecco il Cristo è qui Ecco è là Non ci credete Perché sorgeranno falsi Cristi E falsi profeti E faranno segni e potenti Per ingannare Se fosse possibile Anche gli eletti Voi però State attenti Io vi ho predetto tutto In quei giorni Dopo quella tribolazione Il sole si oscurerà E la luna Non darà più il suo splendore E gli astri Si metteranno a cadere dal cielo E le potenze che sono nei cieli Saranno sconvolte Allora vedranno il figlio dell'uomo Venire sulle nubi Con grande potenza e gloria Ed egli manderà gli angeli E riunirà i suoi eletti Dai quattro venti Dall'estremità della terra Fino all'estremità del cielo Dal fico Imparate questa parabola Quando già il suo ramo Si fa tenero E mette le foglie Voi sapete che l'estate è vicina Così anche voi Quando vedrete accadere queste cose Sappiate che egli è vicino Alle porte In verità vi dico Non passerà questa generazione Prima che tutte queste cose Siano avvenute Il cielo e la terra passeranno Ma le mie parole non passeranno Quanto poi a quel giorno O a quell'ora Nessuno li conosce Neanche gli angeli nel cielo E neppure il figlio Ma solo il padre State attenti Vegliate Perché non sapete Quando sarà il momento preciso E' come uno Che è partito per un viaggio Dopo aver lasciato la propria casa E dato il potere ai servi A ciascuno il suo compito E ha ordinato al portiere di vigilare Vigilate dunque Poiché non sapete Quando il padrone di casa Ritornerà Se alla sera O a mezzanotte O al canto del gallo O al mattino Perché non giunga all'improvviso Trovandovi addormentati Quello che dico a voi Lo dico a tutti Vegliate Libro di Marco Capitolo 13 Dici Dici Grazie.